Siccome i livelli di polveri sottili nell'aria adesso sono nella norma, autorizzo i panevin. Se l'aria è buona non si vede perché debba essere portata a livelli non buoni. Panevin sì per tradizione o no per qualità dell'aria? E' questo il dilemma che si ripresenta puntuale a Treviso ogni prima settimana di gennaio. L'anno scorso le polemiche erano per la cancellazione di fuochi, quest'anno per l'autorizzazione ad accendere, seppur con cataste ridotte e relativa lista di prescrizioni. Abbiamo dimostrato l'anno scorso la nostra sensibilità ambientale bloccando i panevin quando effettivamente la qualità dell'aria indicataci da Arpav era irrespirabile. Fortunatamente ha piovuto, c'è una certa ventosità, Arpav c'è dato il cartellino verde e quindi rispettiamo la tradizione. Vice sindaco che non ne rinuncia però alla stoccata verso le opposizioni. Le opposizioni voglio vedere se domani sera saranno i panevin a bere vin brulè perché altrimenti sono un po' anacronistici. Opposizioni che contestano da una parte la decisione del sindaco ma dall'altra parte lanciano anche una proposta. Noi sappiamo che i panevin purtroppo causano un inquinamento atmosferico molto importante e quindi forse una soluzione di mediazione poteva essere quella di realizzarne solo uno, magari a rotazione fra i quartieri per poter accontentare tutta la cittadinanza però dall'alto salvaguardare la tutela della salute pubblica. Ambientalmente è meglio farli piccoli ma più diffusi rispetto a farne uno grande. Però per il sindaco l'idea non è del tutto da scartare. È una soluzione che magari ci teniamo a disposizione per gli anni prossimi, non la escludo a priori, però quest'anno visto che le condizioni ci consentono di tenere viva la tradizione ci appelliamo allo spirito di responsabilità delle varie parrocchie. Una proposta che i diretti interessati seppur a malincuore non scartano. Ci dispiace tanto, però purtroppo dobbiamo tenerci alle normative. Quindi sareste disposti a cedere il pane e vin? Ma sì, l'importante è il bene di tutti. L'importante per il grande vecchio della città è che comunque sia grande. Quindi cari cittadini, caro sindaco, non dire pane e vin piccoli, le cose piccole non mi interessano. Treviso è una città grande e io voglio le cose grandi e anche i pane e vin grandi. Si è chiaro?